Castigatore divino! L'ha colpito! Ma che devasto è? Ma cos'è sta cattiveria? Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 perché oggi finalmente è uscito l'Extra Pack 4 Il DLC numero 8 che aggiunge nuovi personaggi, nuove missioni parallele, nuovi costumi, nuove super anime, nuove skills Ragazzi, tanta roba nuova che vedremo qui sul mio canale nel corso di diversi video Quindi se riesco, in questi giorni vi pubblico due video al giorno, uno alle 14.30 e uno alle 18 Quindi sul cellulare attivate la sveglia perché vedremo tanta roba davvero interessante Io direi di andare a vedere subito le missioni parallele e nel frattempo vi ricordo di lasciare ora un dannatissimo mi piace Pollice in su! Adesso fatevi sentire al massimo, superiamo i 5000 like perché ragazzi le novità sono davvero tantissime Oggi vedremo Gogeta, la grandissima fusione con la danza di Metamore tra Goku e Vegeta che sarà presente nel film Dragon Ball Super Brawley Faremo la missione l'esercito di Freezer a caccia e qui ci dice che Freezer ha bisogno del tuo aiuto per recuperare le sfere del drago Unisciti all'esercito e sconfiggi tutti quelli che si oppongono Possiamo ottenere un po' di super anime, delle nuove supreme, quindi ragazzi davvero non vedo l'ora E vi ricordo prima di partire un'ultimissima cosa, mi trovate anche su Twitch, mi raccomando seguitemi lì perché arriveranno delle live streaming riguardo questo DLC E poi anche su Instagram, il nickname è JosephGamer, i link sono in descrizione e anche nel primo commento Sono carico al massimo ragazzi, voi non potete veramente immaginare Qua su PS4 non ho tutti i personaggi ma chi se ne frega, ma abbiamo Gogeta, Super, Saiyan, Blue Mamma mia ragazzi miei, non vedo l'ora, guardate la potenza di questo grandissimo personaggio Super danza folle, esplosione dell'anima, scudo del punitore, sparizione d'assalto, castigatore divino, super kamehameha, guardia evanescente, lascia il resto a me Alcune mosse le conosciamo di già, Super kamehameha vabbè di sicuro, la super danza folle anche L'esplosione dell'anima al momento non me la ricordo, c'è la sparizione d'assalto però non ha una carica massima Spero che la sparizione d'assalto sia una sorta di carica massima Anche se aspetta, c'è il secondo costume E poi questo qui ha la carica massima, kamehameha, bing bang per cento, Super kamehameha Ah ragazzi, bene bene, sono contento, dai Quindi direi di andare subito ad utilizzare il personaggio E portiamo con noi magari due combattenti randomici Vediamo, Cell massima potenza e poi Gone del futuro Come ormai sappiamo il film di Dragon Ball Super Broly arriverà in Italia direttamente nel mese di febbraio 2019 Noi in ogni caso siamo qui, lo aspettiamo e non vediamo l'ora di vederlo Bene, sembrano esserci, va bene, è giunta l'ora di dare prova della vostra lealtà Trovate le sfere del drago e contribuite alla realizzazione del mio obiettivo Quindi ragazzi in questa missione parallela siamo amici di Freezer Guardate che saltelli Io non vedo l'ora di vedere subito in azione Gogeta Dobbiamo sfidare addirittura i guerrieri Z Ragazzi sono gasatissimo, penso si vede E vediamo spell moveset, non mi colpite Krilin, vieni qua Mamma mia, ma cos'è? È cattivissimo No ragazzi, è cattivissimo Io ci provo eh, ci andiamo a scontrare Vediamo un attimino Io so bene che cose di questo tipo andrebbero provate nell'allenamento Però ragazzi sono sincero eh L'allenamento lo faccio solo quando devo comprendere meglio delle mosse Ma tutto il resto delle volte voglio assolutamente andare subito nell'azione di gioco Io credo che con questo personaggio vadano combinate per bene diverse mosse Perché di per sé ho come l'impressione che diciamo premendo solo quadrato, solo triangolo Vedete le mosse siano veramente corte E invece bisogna combinarle nel modo migliore Vediamo se ci riusciamo In ogni caso sembra fare un botto di danni come personaggio Quindi veramente potente Boom! Vi andiamo a fermare direttamente la Suprema Ancora che lo colpiamo ma si vede ragazzi che è fortissimo come PG Lo stile di combattimento mi piace Non lo posso giudicare a fondo perché è chiaro Non avendo visto il film non so qual è lo stile di combattimento che avrà Gogeta proprio nel film Io ho fatto la danza folle che conoscevamo di già Ce l'hanno già altri personaggi in Xenoverse 2 E questa è una cosa che sono sincero ormai lo sapete non mi piace molto Per i nuovi personaggi, quelli lì a pagamento nei DLC Preferisco sempre delle mosse completamente nuove ed originali In ogni caso distruggiamo sto piccolo Aspetta c'era qualcosa Ha fatto anche un'altra mossa Vabbè ragazzi le combo è chiaro Io adesso le sto provando un attimino così Ma vanno provate in un certo modo Combinandole per bene Conoscendo tutte le combo esistenti Perché solo in questo modo si può sfruttare a pieno il potere dei nuovi pg Quindi vediamo un po' Riesco a colpirlo? Di cattiveria vedete? Guardate che figo che era lì Gogeta Vabbè ragazzi tanta roba Personaggio valido secondo me Però adesso dobbiamo andare a vedere il resto delle mosse Altrimenti non posso giudicare a pieno Abbiamo la sparizione d'assalto Questa semplicemente mi permette di sparire Non è niente di che eh Ad essere sincero Abbiamo lo scudo del punitore E credo che Mamma mia che bello E credo che essendo tale Ci permette di difenderci Non so dalle supreme O da attacchi nemici Quindi dovremmo farlo nel momento opportuno Lo scudo del punitore Abbiamo l'esplosione dell'anima Questo pure lo andremo a provare E chi ci ritroviamo? Qui alla capsule corporation Quando mi dai il gioco che mi hai promesso? Sì vabbè ma loro stanno a combattere Si mettono a pensare al giochino Dai allora Super danza folle No l'abbiamo già vista Quindi vado direttamente con l'esplosione dell'anima Anche se i ragazzi sono fortini eh Vai così Boom Ma cos'è sta cattiveria? No aspetta fammela vedere meglio No ragazzi aspetta Questa è una mossa Che sicuramente va potenziata Ok Gli lancia un botto Ma sembra quasi Ma che figata è? Allora ragazzi è bellissima È bellissima Guardate che figata Bella sul serio Ah se la potenzi Vediamo se la faccio debole Gli fa questi pochi colpi No Ragazzi anche se non la potenzio Colpisce comunque un botto l'avversario Ci sta ragazzi è fighissima Mi piace un botto E quasi quasi Se la trovo anche per il mio patroller Potrei pure metterla Joseph Che Che mi piace veramente parecchio Andiamo di stamina break Vediamo se riesco a farglielo eh Devo solo avvicinarmi meglio al nemico Capsula energetica Z Tanto ragazzi stiamo testando il personaggio Non importa che utilizziamo le capsule Che ci frega Boom Bello Bello stamina break Mettiamola così Ci sta Super danza folle Andiamo a concludere con Trunks Anche se ragazzi Sto Trunks Che ci tiene? Una peste Vai ancora Si sposta È incredibile Ragazzi ma non so Forse in questo aggiornamento Hanno migliorato L'intelligenza artificiale Perché normalmente Xenoverse 2 Non è che te li scansa così bene Sti colpi Vabbè In ogni caso Gli abbiamo fatto fare una bruttissima fine Io direi di andare a colpire Ecco qua Questo piccolo Goten Di base Noto che Laura Si recupera molto velocemente Ed è una cosa ottima Perché per un personaggio del genere Fare le Supreme Credo sia molto importante Poi vorrei andare a fargli Anche l'altro stamina break Se riesco Quello che ti butta giù È separato Diciamo che Mi sarei aspettato Delle combo Molto più lunghe Anche Premendo semplicemente Lo stesso tasto C'è una reattività superiore Da parte del PG Anche se in ogni caso Da come vediamo È molto dinamico Fa delle mosse Davvero molto veloci Quindi in ogni caso Ci sta Quindi vediamo un po' Adesso sono arrivati Goku e Vegeta Come vedete Le mosse sono molto fighe Riescono a fare Molti danni Quindi vado a fare Un'altra esplosione Dell'anima Quanto spacca ragazzi Peccato che non l'ho colpito Nemmeno una volta Il nemico E direi di andare a fare Un po' le altre Supreme Aspè abbiamo Prima la guardia vanescente E che cosa stava facendo No ragazzi Vabbè Non l'ho potuta rifare Pensavo di pararmi Ma in ogni caso È una difesa È uno scudo Forse quando Gogeta viene colpito In pratica In qualche modo Si difende Mettiamola così Mi paro Niente da fare Niente da fare Devo ammettere Che la missione Di per sé Non è che sia impossibile Però In ogni caso I personaggi Sono validi Cioè i nemici Che stiamo affrontando Non mi sembrano Così scarsi Come pensavo Magari più all'inizio Io se riesco Boom Lo stamina break Proprio non va a segno Oh ci sono due contro uno Allora vado di Super Kamehameha E prendiamo Goku Mamma mia ragazzi Non vedo l'ora di vedere Il castigatore divino Che poi in realtà La stessa mossa Ce l'aveva in precedenza La stessa suprema Quello è il punitore di anime Non mi ricordo E vabbè Castigatore divino È la stessa cosa Cioè siamo lì Anzi di anime Divino Beh può essere Hanno pure cambiato un po' Le traduzioni varie Quindi Goku lo mettiamo a terra Che sinceramente Mi ha annoiato E vediamo un po' Eccolo qua Ora ci tocca Vegeta Allora io direi Che possiamo colpire ora Quindi ci siamo con la suprema Castigatore divino L'ha colpito Ma che devasto è È bellissima Io avevo ragazzi Avevo visto il trailer Di sfuggita Però le supreme Cerco sempre Di non vederle Perché altrimenti È uno spoiler assurdo No Cioè come sapete Che sono fatto io Che mi gaso Per le supreme E tutta sta roba qua Cerco di non farmi Troppi spoiler Anche perché poi I trailer che avevo visto Fino ad ora Non erano un granché Ah il castigatore divino Consuma 5 E infatti Potevo fare solo La super kamehameha L'ho fatta con quel Secondo di ritardo E mi son subito Uno stamina break Bello Cattivello Va bene In ogni caso ragazzi Personaggio Che nel complesso Mi piace Devo essere sincero Forse mi aspettavo Qualcosina in più Dalle combo Però per quanto riguarda Le mosse Gli avrei tolto Forse la super danza folle Che è una mossa Che già conoscevamo Però per il resto Sono mosse Che ci possono stare Considerando poi Un'altra cosa Che in pratica Questo ha la sparizione D'assalto E non la carica massima Però l'altro personaggio Cioè l'altro costume La carica massima Ce l'ha Quindi direi Che può andare Comunque bene Vediamo se facciamo La parte suprema Della missione Ammesso che non debba Arrivare un altro nemico Prima della parte suprema Nuovo nemico Quindi forse probabile E arrivano In versione Super saiyan blu Quindi forse Questa missione Non ce la facciamo Nemmeno Nella parte suprema Non importa Perché alla fine Ragazzi Devo provare il pg Quindi l'obiettivo Non è Fare la missione Che in questo caso Ci fa da sfondo L'obiettivo è Provare a pieno Il personaggio Perché ragazzi Se dovessi Tra virgolette Battere a pieno i nemici Fare la parte suprema Della missione Tutto quanto Sceglierei dei personaggi Che so utilizzare bene Sceglierei magari Il mio patroller Con trasformazioni E supreme giuste Tutte ste cose qua Quindi direi di andare A colpire Io noto che In ogni caso Non so Forse un'impressione Sbagliata Però L'intelligenza artificiale Del personaggio È aumentata Cioè in generale Dei nemici Non so Li vedo più riattivi Più forti Sarà un'impressione Sì Castigatore divino Colpito Che poi La scena in cui Gogeta Proprio quell'attimo In cui Gogeta Fa Quella furia È ripresa Dalla trasformazione In Super Saiyan Blue Del patroller Adesso ve la faccio rivedere Per farvi capire meglio Cosa intendo Magari Prima distruggiamolo Sto Goku Anzi facciamo così Va Castigatore divino Ecco Vedete Quando fa Quell'esplosione Di aura E apre la bocca Mettiamola così Oh è riuscito a resistere Perché si è spostato Un botto di volte Quindi Sono Granate a grappolo Mettiamola così Non sono delle vere Proprie Esplosioni Cioè Non è un vero e proprio Unico raggio Questo di Gogeta Girati Cioè vedete ragazzi Pure se mi giro Vai Stamina Break Benissimo Così ti voglio Goji Ma come Goji Che poi mi pare Francesca Lo chiamo così in un video Però Goji Dai ci può stare Non lo so Castigatore divino No L'ho mancato Vabbè però qualcun altro L'ha beccato con la Suprema Si è difeso Provo con una Super Kamehameha Verremo interrotti No E anzi Distruggiamo completamente Vegeta Ma la parte Suprema Della missione Arriva forse Mi sa di sì Oh cavolo Un nuovo nemico ancora No ragazzi Non è la parte Suprema Della missione È proprio ancora la missione Ho tre minuti Sta durando un botto Davvero un botto Quindi ragazzi Dobbiamo spicciarci Qua se riesco Devo spammare pure un po' Le Supreme Ma il problema È che non avendo La carica massima Eh vado in difficoltà Perché purtroppo Sì In pratica Non riesco in alcun modo Ad avere più aura In maniera più o meno veloce Quindi si va ragazzi Mi giro Dai dai Il problema è che ci sono Troppi nemici Che mi stanno pure in falso Cioè troppi amici Che mi danno fastidio Perché mi vanno a spostare i Gotenks Normalmente da solo Forse andrei pure meglio Vediamo Oh Vegget Ma che è Vegget Cioè Ragazzi avete visto Non appena ha notato La danza della Fusion Contro la Fusion Con Ipotara È ora di scoprire quale sia Ragazzi avete visto Che ha detto No vabbè Attenzione Le due fusioni Hanno parlato E hanno detto La danza di Metamore Contro quella Con gli orecchi Ipotara È il momento di vedere Qual è la più forte E l'altro Ha accettato la sfida Quindi ragazzi Attenzione Attenzione Roba assolutamente Da non sottovalutare Oh cavolo ragazzi Qua sono morto Sono morto E sono finito Credo che nessuno Mi verrà ad acchiappare La missione Inevitabilmente È finita male 13 minuti Non importa Il tutto Era finalizzato A provare Gogeta Ovviamente Rifarò la missione Per bene in un prossimo video Cosa ne pensate quindi Di Gogeta Super Saiyan Blue Dell'Extra Pack 4 Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti Iscrivetevi ora Al mio canale Cliccando qui al centro Guardate altri video Cliccando qui a destra e sinistra Presto vedremo tutti i contenuti Dell'Extra Pack numero 4 E alla prossima Ciao